Buongiorno in questa bellissima giornata di sole perugino, stiamo andando in auto ad un appuntamento ma volevo presentarvi un brano particolare dedicato al ricordo della strage di Bologna, è un brano che ho eseguito con l'orchestra del teatro comunale di Bologna per il 2 agosto, una famosissima rappresentazione musicale dedicata al concorso di composizione quindi buon ascolto con questo brano, Diabolic Machine è il titolo per clarimento e orchestra